ciao a tutti oggi prepareremo i ghiaccioli al mojito il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 minuti più il tempo di congelamento gli ingredienti sono rum succo di lime acqua foglioline di menta e zucchero di canna diamo il via alla ricetta andiamo a polverizzare lo zucchero di canna mettiamo lo zucchero di canna nel boccale e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo con una spatola andiamo ad aggiungere l'acqua e facciamo cuocere il tutto per 3 minuti a 50 gradi velocità 2 adesso aggiungiamo il succo di lime e amalgamiamo per 20 secondi a velocità 5 aggiungiamo il rum e amalgamiamo per 10 secondi a velocità 5 il nostro composto è pronto andiamo a prendere delle formine per i ghiaccioli e andiamo a posizionare all'interno alcune foglioline di menta sbriciolate e andiamo a versare il composto all'interno dei nostri stampini dopo aver riempito gli stampini andiamoli a posizionare in freezer per almeno 8 ore ghiacciolo al mojito grazie e alla prossima ricetta grazie